Vorremmo riuscire un po' dal dinario di tenorismo, perché per tre tenori c'è molta musica da suonare. Concludiamo il primo set con un brano di Disy di Lesbida, titolo Au! E non è una solita espressione di Disy, au, au, au! Grazie a tutti! 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 ! Grazie a tutti! ! ! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!